Dopo una lunga assenza di 15 giorni dai social media, Chiara Ferragni è tornata in grande stile, facendo il suo ritorno alla ribalta durante l'inaugurazione dei Musei delle Lacrime a Venezia. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. L'influencer, che recentemente aveva trascorso del tempo a Dubai con i suoi bambini, è riapparsa più sexy che mai indossando un abito da sera nero lungo con uno spacco vertiginoso fino alla natica. Accompagnata dalle amiche e direttrici creative Giorgia Tordini e Gild Ambrosio, Chiara ha fatto la sua comparsa all'inaugurazione della mostra curata da Francesco Vezzoli presso il Museo Correr. Sulla sua pagina Instagram, ha condiviso foto e video in cui mostrava con orgoglio il suo outfit sensuale, provocando l'ammirazione dei suoi follower e ricevendo numerosi complimenti per la sua bellezza. Nonostante i recenti scandali e le voci di crisi matrimoniale con Fedez, sembra che Chiara stia cercando di riportare l'attenzione sulla sua immagine pubblica e sul suo lavoro, concentrando l'attenzione sul suo stile e sul suo sex appeal. Mentre lei si immerge nella cultura veneziana, Fedez è tornato a Milano per riabbracciare i loro bambini, segnando un momento di riconnessione familiare dopo un periodo di vite separate. Per un momento, tutti sembrano dimenticare le polemiche e i problemi personali, concentrandosi invece sull'energia e sulla positività di Chiara durante questa nuova fase della sua carriera. Con il suo ritorno in grande stile sui social, sembra che Chiara Ferragni sia pronta a conquistare nuovamente il cuore dei suoi fan e a lasciarsi alle spalle le lacrime del passato. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.